La PostPay è senza dubbio carta ricaricabile più utilizzata dagli italiani, è sicura per le transazioni online e comoda per chi ama e viaggiare senza voler portare troppi contanti con sé. Le carte ricaricabili risultano essere molto comode perché non necessitano di un conto corrente associato per essere utilizzate e non richiedono nemmeno molti requisiti per poterle attivare. Esistono anche versioni dotate di IBAN che le rendono molto simili a dei conti correnti ma che invece dispongono di operazioni semplificate e ridotte. La versione standard non comporta alcun contesto di gestione annuo e consente di eseguire un vasto numero di operazioni, pagamento di bollettini, prelievi in Italia all'estero, acquisto su vari store online e convenzionati, visa e trasferimenti di denaro verso un altro PostPay. Inoltre, grazie all'app PostPay è possibile tenere sotto controllo il proprio saldo in ogni momento e con la massima comodità. Dopo essersi registrati, si può accedere all'app PostPay inserendo un nome utente password. In caso di smarrimento della password è possibile cambiarla direttamente dall'app, ma si può anche scegliere di effettuare il login tramite il codice PostID oppure tramite l'inserimento dell'impronta digitale. Il codice PostID è una sequenza di 6 caratteri che viene scelto dall'utente e che serve per svolgere le operazioni di autenticazione più velocemente. Per attivarlo è sufficiente essere registrati e comunicare il proprio numero di telefono a Poste Italiane. Nel caso in cui l'utente sia inattivo per più di 6 mesi oppure trascorsi 6 mesi dall'ultima transazione, il codice PostID dovrà essere ripristinato accendendo all'app PostPay. Se invece si smarrisce il codice PostID, è necessario telefonare al call center o recarsi presso uno sportello per chiedere la cancellazione del codice dal proprio dispositivo e una nuova attivazione. L'app PostPay è disponibile per tutti i dispositivi iOS, Android e Windows Phone nei relativi store. Dopo essersi registrati e aver eseguito l'accesso, attraverso l'app PostPay si possono svolgere molte operazioni in tutta semplicità. Le attività più comuni sono la ricarica della carta, comodamente da app, i pagamenti postali, le ricariche telefoniche e la consultazione degli ultimi movimenti e del proprio saldo. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo!